Deluso dall'audizione della Commissione perché non ci è stato presentato alcun programma. Oltre i 31 milioni di euro, all'aumento del fondo sanitario di oltre 80, quindi già fanno tra i 110 e i 120, a fronte di queste risorse non c'è neanche un programma. Anzi, è stato teorizzato che il programma in sede di emergenza sostanzialmente non servirebbe. Però poi gli effetti li abbiamo pagati. Dal ritardo estremo che dai sindaci, i cittadini e gli operatori della sanità hanno denunciato sui tamponi a una mancanza di programmazione circa gli investimenti per arrivare alla scarsità dei dispositivi di protezione individuale. Noi ci attendiamo di avere questo programma perché la fase 2 deve necessariamente prevedere una rete di protezione e di sorveglianza sanitaria in grado di accompagnare famiglie, imprese e cittadini alla cosiddetta vita normale, cioè alla fuoriuscita dall'emergenza vera e propria. Aspettiamo questo programma e denunceremo fino alla fine se il programma non dovesse arrivare, come è anche accaduto questa mattina. Per quanto riguarda invece la cassa integrazione voglio finalmente dire che dopo tante battaglie, denunce, sono state processate l'86% delle domande per quello che ci è stato rappresentato, ma attenderemo e vigileremo fino alla fine che quelle risorse arrivino immediatamente ai lavoratori che in Abruzzo sono purtroppo tra gli ultimi a ricevere le risorse della cassa integrazione in deroga. È stato uno scandalo quello che è avvenuto in queste settimane e noi staremo lì vigili, urleremo fino alla fine, fino a quando i lavoratori non vedranno nelle proprie tasche quelle risorse, quei soldi che servono in una fase di emergenza così grave. Grazie a tutti.